Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'Unione di Centro e parlamentare molisano, ha fatto tappa a Campobasso in occasione della presentazione della lista di partito che corre in appoggio del candidato sindaco del centrodestra Aldo De Benedittis. Cesa ha sottolineato l'importanza dei temi e dei valori che contraddistinguono l'impegno in politica dei cattolici democratici. Il ruolo dell'Udc è quello di portare moderazione all'interno della coalizione e competenza, quindi buonsenso, responsabilità e rimettere al centro della politica la concretezza che molte volte non c'è stata negli ultimi anni nella vita politica del nostro paese e anche in questa città, quindi a sostegno dell'avvocato De Benedittis, senza se e senza ma, noi vogliamo rappresentare questo, quindi competenza, moderazione e difesa dei valori che sono dietro allo scudo crociato, quindi la difesa della identità cristiana del nostro paese, la difesa della famiglia, la difesa della vita, queste sono le caratteristiche del nostro partito che portiamo in ogni luogo. Non solo amministrative ma anche elezioni europee. Il prossimo 8 e 9 giugno l'Udc in questa tornata è federata con la Lega di Matteo Salvini. In Europa, dice Cesa, serve maggiore coesione sul fronte della difesa e della politica estera comuni. Bisogna fare un passo in avanti in Europa per costruire un'Europa che sia forte nel mondo e per farlo ancora, diciamocelo molto chiaramente, avere un esercito comune e una politica estera comune. Ma per avere una politica estera comune bisogna avere alle spalle un esercito comune, passaggi che si stanno facendo. Con fatica ma bisogna rafforzare sempre di più l'Europa se si vuole essere protagonisti nel mondo. Soddisfazione è quella che emerge dalle parole del segretario regionale del partito, Teresio Di Pietro, che sottolinea l'importanza di un possibile ritorno dell'Udc all'interno delle istituzioni dopo la parentesi regionale dello scorso anno. Per ricominciare all'interno delle istituzioni. Noi abbiamo dato vita ad una lista che non è soltanto un fenomeno elettorale, perché gran parte delle persone che hanno aderito vogliono aderire al progetto politico dell'Udc. E questo mi riempie di orgoglio. Voglio ricordare che l'Udc, tranne l'ultima tornata elettorale in cui non fu presente col proprio simbolo, è sempre stato presente in seno al Consiglio Comunale di Campobasso. Presentiamo una lista composita, una lista di 17 e 14. Qualcuno dice perché 31? Perché 31? Perché il 32esimo non c'erano problemi. Non abbiamo voluto mettere il 32esimo, e questo ci tengo a sottolineare, per rendere omaggio alla memoria di colui il quale doveva quasi capeggiare questa lista. Mi riferisco oggi a Gianluca Gargano, che è morto pochi giorni prima. Allora abbiamo ritenuto importantissimo lasciare questo spazio alla memoria di quest'amico che doveva essere con noi e purtroppo non c'è. È una lista composita, 17 uomini, 14 donne, ci sono professionisti, ci sono operai, ci sono giovanissimi, abbiamo una candidata di ben 21 anni, ci sono tutte le premesse affinché possiamo portare un ottimo risultato. Però per noi il risultato più importante in questo momento è che senza sé e senza ma, senza consiglieri regionali e senza altro siamo riusciti a comporre la lista dell'Udici.